bella ragazzi bentornati il vostro mister lollo qui su football manager club il fomento ancora per la nostra amatissima cremonese e si ragazzi proseguiamo la nostra carriera ovviamente ci mancano solo sei partite così concludiamo questo campionato e vediamo cosa succede playoff o promozione diretta forse sono più probabili playoff però oggi ce la giochiamo come al solito cremonese doppietta di partite oggi importantissime difficilissime entrambi veramente speriamo di riuscire a ottenere un po di punti comunque la trasferta col cittadella come vedete al tombolato di cittadella appunto eccolo la ottava in classifica vedete 46 punti noi 52 palermo 54 breccia 55 perché il breccia nomino il breccia perché la prossima successiva dopo tre giorni ulteriori ragazzi qui adesso giochiamo abbastanza delle partite ravvicinate nei tempi come vedete breccia il 21 aprile in casa è lì terzo in classifica vediamo un pochino cosa riusciamo a fare breccia molto forte speriamo bene intanto giochiamoci la prima cittadella cremonese siete fomentati commentate mi raccomando grazie come sempre a tutti comunque per il vostro supporto che c'è quotidianamente e per questo vi ringrazio tanto ma tantissimo proprio sono contento anche per le vostre analisi sempre precise e quindi è un piacere per me portarvi anche oggi cittadella cremonese avanti ecco la mia amatissima anteprima allora cittadella cremonese grazie siamo leggermente favori di quel tombolato arriviamo entrambi da una condizione recente altalenante come vedete ma noi arriviamo da tre partite dove facciamo due vittorie un pareggio e l'altra l'abbiamo vinta in casa se vi ricordate contro il cittadella speriamo di ripeterci anche in questa rapporto sul cittadella ci dice l'allenatore roberto venturato punto di forza la resistenza questa squadra esprime un alto livello nella resistenza quindi sarà molto tosta soprattutto alla fine del secondo tempo perché aveva una buona resistenza potenziali punti deboli il cross questa squadra è lacunosa nei cross va bene inizio re 15 al pier cesare tombolato di cittadella 5000 biglietti su 7600 insomma non sono pochi 14 gradi sereno arbitrato da gianluca aureliano due espulsioni 44 a munizione abbastanza severo formazione con la scelta da me ragazzi quella che mi piace in questo momento ma soprattutto quella che devo mettere in quanto radunovic è infortunato ve lo ricordo ancora per sei settimane questo è un brutto colpo dentro ravaglia come portiere castrovilli sta recuperando per fortuna domani recupera non lo voglio mettere nemmeno in panchina ancora castrovilli visto che abbiamo so di mestrefezza per cui castrovilli tornerà con il brescia speriamo intanto 433 al solito col mediano il nostro equilibrata la mentalità ravaglia in porta mogosh tiago martins terranova migliore questa la difesa castanetti davanti la difesa con pessina ed imbaie due mezzali piccolo a destra paganini a sinistra musa barro la nostra musa ispiratrice davanti con 25 reti ve lo ricordo ora formazione del cittadella entriamo in campo fomentati ai ragazzi forza gremonese forza grigio rossi vai il cittadella si schiera con un 4 4 2 a rumbo ragazzi come vedete a diamante più che a rumbo scusate luca maniero in porta giringhelli drudi camigliano benedetti in difesa pasa davanti a difesa con settembrini paroglia due centrocoppisti centrali castanos trequartista dietro panico e scappini questa è la formazione del cittadella spogliatoio andiamo parla alla squadra energico la stampa ultimamente vi ha alloggiato non lasciate questo vi metta pressione ma mi piaceva quella quella sorta di indicazione ma non è piaciuta invece ai giocatori che non li vedo fomentati comunque difesa energico proviamoci penso possiede dare molto di più ok adesso sono un po più felici bene così bene attacco energico vai musa barro può dare di più rispetto all'ultima partita che non mi è piaciuto però sta giocando alla grande vai ragazzi entriamo in campo e speriamo di ottenere tre punti fondamentali importantissimi come sempre vai calcio angolo super per noi ragazzi piccolo drudi in qualche modo è calcio di rigore calcio di rigore settembrini a terra un nostro giocatore in mezzo all'area secondo minuto chi va a battere stiamo calmi ragazzi al secondo minuto è fondamentale piccolo antonio piccolo va lui su calcio di rigore segna nell'angolino maniera a momenti ci arrivava ma segna antonio piccolo ottava rete stagione grande antonio tu non sei piccolo sei un grande 1 a 0 al secondo minuto riguardiamo il rigore non spiazzato il portiere nell'angolino ha quasi toccato ma meglio così 1 a 0 farò la trale per noi ragazzi mogosh continuiamo con piccolo dietro per castagnetti ancora vasile mogosh vediamo cosa fa bene per piccolo la giochiamo molto bene va antonio è lunghissimo per musa barro non è fuorigioco musa palo che sfortuna poi paganini ancora paganini paganini per migliore bellissimo il cross sul secondo palo antonio piccolo e paramaniero che inizio farò la trale ancora per noi 17esimo minuto va paganini va via benissimo luca paganini il cross in mezzo antonio piccolo il destro che gol ancora lui il grande piccolo ragazzi il grande piccolo 17esimo minuto 2 a 0 cremonese col cittadella non avete stagione per antonio paganini ha fatto un movimento stupendo un cross perfetto raso terra guardate grandestro qui imprendibile per maniero 2 a 0 ancora farò la trale per noi ragazzi mogosh lungo il fallo laterale anticipato da luca maniero poi castagnetti va a recuperare come sempre i palloni davanti alla sua difesa castagnetti rinizia il gioco per paganini tocco per imbaie bravo questo ragazzo l'ho preso vi ricordo a parametro 0 dietro per migliore castagnetti riniziamo con terra 9 va bene così lancio lunghissimo per piccolo che oggi sta facendo una partita eccezionale ma piccolo piccolo ancora un sinistro ma che gol ha fatto ma che gol ha fatto tripleta decimo col stagionale si porta a casa lui il pallone questa volta 3 a 0 al 45esimo ma che cremonese ragazzi qui al tombolato che cremonese castagnetti terra nova guardate il lancio piccolo prende un gran pallone di destra lo doma in qualche modo e poi segna il 3 a 0 bene amici cari finisce un grande primo tempo per la nostra cremonese schiantato il cittadella come sempre un gran gioco sulle fasce 3 a 0 tripletta del nostro grande piccolo 13 a 2 tiri guardate 7 a 2 nello specchio 61 per cento possesso questa cremonese gioca da paura ragazzi gioca da paura spogliatoio e non posso dirgli nient'altro che state facendo una grande gara energico sono davvero felice della vostra prestazione continuate così tutti fomentati sono tutti felici finiamo il discorso alla squadra in questo momento va bene così anche la forma va bene stanno giocando tutti bene non ho nulla da dire ragazzi la difesa perfetta benissimo piccolo benissimo paganini sulle fasce molto molto bene avanti secondo tempo calcio d'angolo per lo cazza nostra dietro per panico prova il destro ribattuto batti ribatti ancora settembrini alla palla il sinistro il gol e no ragazzi e no ragazzi no ragazzi concentriamoci al 55esimo 3 a 1 accorcio le distanze fortunosamente con un gran sinistro di questo settembrini guardate panico botte una botta batti ribatti guardate lì non prende il 19 nostro non prende il pallone settembrini un raso terra facile 3 a 1 farò tra le per noi ragazzi la batte migliore e paganini controlla bene il pallone però paganini va luca tocco per musa musa barro va barro va lui molto bene può allargare il gioco vediamo cosa fa allarga bene per antonio piccolo come sempre ancora antonio no si fa togliere il pallone da camigliano però attenzione benedetti mi preoccupa questa questo cittadella che nel suo tempo è entrato veramente bene per pasa attenzione settembrini tocco per benedetti facciamo molta attenzione ragazzi tocco dentro bene qui in qualche modo barbara castanoss attenzione castanoss largo per giringhelli e il cross ravaglia mette in angolo pure se era un tiro cross facile però ravaglia ha voluto mettere in angolo 63esimo minuto castanoss batte il calcio d'angolo col peste d'embaie via maniero settembrini pessina attenzione ammunito pallone settembrini allarga ancora per castanoss va lui è grande intervento di paganini scivolata ottimo ragazzi facciamo delle sostituzioni embaie esce 660 quello che sta giocando meno bene ma anche mogos per cui rondanini dentro al posto di vasile mogos e poi entra l'esperienza di mariano arini al posto di embaie non come mezzala arini infatti facciamo così pessina ok così facciamo a supporto e colui centrocampista centrale va bene avanti punizione per loro va maniero la botta e il gol ragazzi ravaglia non trattiene qui mi preoccupa 3 a 2 accorciano in distanza prima rete stagione per luca maniero assurdo ragazzi assurdo guardate che punizione qui ravaglia però non trattiene si vede che al secondo portiere 3 a 2 ragazzi ho messo difensiva adesso 75esimo dobbiamo tenere incredibile castagnetti tocco per antonio piccolo non così ragazzi crediamoci per favore rondanini tocco per arini l'esperienza di arini dietro per castagnetti ancora rondanini la gioca molli come sempre palla a terra molto bene antonio piccolo rondanini rondanini per arini ancora antonio piccolo con una gran partita tocco per arini allarga poi per pessina molto bene per paganini bel gioco ragazzi destra sinistra come piace a me luca paganini dietro per francesco migliore diamo se il val cross sul secondo palo musabarro è lui una sentenza 4 a 2 26esimo gol e dai ci voleva ragazzi gran cross di francesco migliore musabarro non sbaglia mai ragazzi non sbaglia mai arriva un pallone e segna guardate migliore non è fuori gioco gran sinistro al volo imprendibile 4 a 2 intanto pallone ribattuto in qualche modo la nostra difesa maniero è entrato loro un attaccante e hanno cambiato il modulo in 4 3 1 2 intanto grindelli attenzione e calcio di rigore gli ha dato il calcio di rigore ragazzi per un contrasto normalissimo all'ottantatresimo assurdo assurdo va panico contro ravaglia fa il miracolo ravaglia panico e gran golla 4 a 3 partita incredibile secondo tempo che dobbiamo veramente essere più tosti ragazzi ecco qua rigore panico non arriva ravaglia 4 a 3 ultima sostituzione quando siamo alla fine chi faccio uscire ragazzi è castagnetti castagnetti che frustato per il feedback gli ho detto incoraggiato l'ho incoraggiato comunque esce castagnetti ragazzi entra a dai ci difendiamo ancora con il nostro incontrista vediamo un po di tenere questo 4 a 3 che partita assurda ragazzi avanti siamo al 95esimo calcio d'angolo per loro l'ultima opportunità per loro castagnos terra nova che spazza fischia ragazzo fischia arbitro e finisce finisce tre punti fondamentali 4 a 3 che vittoria ma stavamo 3 a 0 dobbiamo veramente essere un po più tosti però su queste partite dobbiamo chiuderle prima comunque va bene avanti con i tre punti siamo sempre lì con 31 gare guardate prima la classifica 55 punti 57 il palermo 58 il breccia non è cambiato molto il pescara 62 verona 61 le prime due sono veramente imprendibili ragazzi sono imprendibili abbiamo però dal carpi ben ragazzi 6 punti di vantaggio a 5 gare dalla fine non è male 6 punti vantaggio dal carpi bene così guardiamo le statistiche 18 a 13 diri per noi 8 a 9 però per loro nello specchio quindi guardate che secondo tempo che hanno fatto 57 per cento possesso palla molto bene però 84 per cento passaggi completati 93 per cento i contrasti vinti tostissimi 61 per cento colpi di testa vinti migliore in campo antonio piccolo ovviamente con quella tripletta si porta a casa al palone 9.5 paganini 8.2 assist bene l'assist anche di terranova di migliore bene ravaglia nel secondo tempo la difesa non è stata molto attenta come il centrocampo 7.1 musabarro che ha fatto un altro gol molto importante loro bene maniero luca maniero con quel gol bene settembrini anche lui con gol e poi giuseppe panico che ha segnato sul rigore come avete visto questo è il nostro 4 a 3 col cittadella avanti adesso ci giochiamo una partita fondamentale contro il brescia in casa daie cremonese daie eccoci nuovamente davanti all'anteprima ragazzi di cremonese brescia siamo leggermente favoriti è un derby lombardo lo sapete molto sentito altalenante le condizioni di entrambi le squadre il brescia però ha vinto nella scorsa gara nella generale d'andata e l'ora allenatore eugenio corini punto di forza la freddezza questa squadra esprimono un alto livello nella freddezza quindi pericolosi sotto porta potenziali punti deboli col subiti 6 dei 13 assi sconcessi nelle ultime 20 partite sono arrivati i calci d'angolo le pallate di terranova potrebbero aiutare a trarne vantaggio speriamo inizio alle 20 e 30 al giovanni zini di cremona 11.100 biglietti ragazzi ragazzi su 20.000 sono aumentati i tifosi veramente sono contento per questo derby più vicino su 23 gradi perfetto però per giocare a calcio eugenio a battista l'arbitro un'espulsione 29 munizioni vi faccio vedere però cosa è successo hanno già giocato le nostre rivali lì davanti pescara che ha vinto a crotone come vedete verona ha vinto a perugia il palermo ha vinto a salerno quindi il perugia ha perso rimane a 5 punti da noi ma guardate sono tutti lì davanti verona e pescara sono imprendibili ragazzi eccoli là 67 65 punti palermo 60 se noi vinciamo col brescia recuperiamo il brescia quarto in classifica vediamo cosa succede formazione avanti derby sentitissimo questo è il 433 scelto da me ragazzi l'unico infortunato è radunovic come sapete purtroppo cinque settimane è però torna castrovilli molto importante per noi infatti ravaglia in porta mogos teco martins terrenova migliore rimane la stessa formazione ragazzi con castagnetti davanti al difesa pesina e in baglie a centrocampo castrovilli ritorna a destra piccolo a sinistra dopo la sua tripletta musabarro l'unica punta fondamentale 26 reti stagionale ve lo ricordo mentre da equilibrata adesso faccio vedere la formazione del brescia entriamo in campo i grigi e rossi devono volare in questo derby dai con le sciarpette al vento forza gioca come noi ragazzi con un 433 col mediano a specchio proprio il brescia con alfonso in porta destra a sinistra in difesa sabelli romagnoli carillo martella endoi davanti alla difesa con viviani e martinelli a centrocampo tremola da destra curcio a sinistra donna ruma l'unica punta pericolosissimo spogliatoio parla la squadra energico entrate in campo riprendete da dove avete finito l'ultima partita oppure no so che molti di voi vorranno vedere vendicare quanto è successo l'ultima volta contro il brescia si questo ok va che sono motivati lo sapevo energico penso possiede dare molto di più bene tutti felici energico stessa cosa qua guardate così mi piace tutti fomentati per questo derby finiamo il discorso alla squadra adesso entriamo in campo fomentatissimi forza grigio rossi calcio d'angolo per loro attenzione ragazzi al secondo minuto martinelli dietro per tremolata non lo fate tirare allarga ancora per martinelli il cross immediato via la palla viviani che gol hanno fatto malefico brescia maledetti 1 a 0 che sfortuna non me lo aspettavo 1 a 0 subito diamogli un po' di istruzioni immediate incoraggiamento alla squadra tremolata riguardiamo allarga molto bene per martinelli che riesce a fare un cross incredibile palone che passa cariglio viviani sfortunati gran gol di viviani 1 a 0 angolo per noi ragazzi al 34 se non è successo nient'altro ma piccolo piccolo in mezzo e musa barro di testa va a segnare il 27esimo gol non lo tengono mai 34 minuti 1 a 1 gran pareggio gremonese si musa la mia musa ispiratrice questo è fortissimo ragazzi arriva oltre 30 gol la vedremo guardate che colpo di testa incredibile in mezzo alla difesa del brescia 1 a 1 vanno loro adesso lancio molto lungo va mogos però dietro per ravaglia attento ravaglia esce esce ravaglia mamma mia brividi terranova per fortuna terranova in baglie vediamo cosa combina in baglie ragiona bene per castagnetti stanno lì in difesa aspettano il brescia il nostro gioco pessina pessina ancora per in baglie molto bene va in baglie per antonio piccolo che si accentra un pochino va antonio va antonio fascia sinistra il cross dentro arriva castrovilli che gol non è fuori gioco castrovilli cosa ha fatto ma che gol ha fatto castrovilli al derby questo è un gol eccezionale amici se starete in stagione è tornato lui ha segnato subito ma ancora antonio piccolo fortissimo grande assist veramente grande forma guardate che cross sul secondo palo non è fuori gioco castrovilli al volo di destro sotto l'incrocio valla a prendere 2 a 1 finisce un primo tempo emozionante qui a cremona al giovanni zini 2 a 1 per noi contro il brescia ricordiamo al terzo minuto segnano subito loro in vantaggio con mattia viviani aveva un pochino rosicato ma poi la mia squadra ha reagito con la forza giusta col vigore giusto musa barro al 34esimo gaetano castrovilli al 40esimo 2 a 1 per noi adesso dobbiamo solo tenere 9 a 4 i tiri in porta ecco quale statistiche 3 a 3 se la sono giocata mentre il brescia è fortissimo anche in questo gioco 54 per cento il possesso palla per lui spogliatoio ovviamente parla alla squadra energico dobbiamo evitare di rilassarci ovvio sono ben fomentati per quello che io ho detto bene energico voglio dare molto di più tutti felici energico anche qua felice attacco il nostro musa barro io lo diciamo ma va bene sono tutti felici sono contento finiamo il discorso della squadra entriamo in campo chi sta giocando così così beh i due centrocampisti centrali ragazzi pessina ed imbaie pessina anche a munito anche migliore e terra nova così così come mogosh vabbè andiamo avanti poi vediamo cosa fare come sostituzioni avanti sessantesimo minuto non è successo nulla null'altro ragazzi quindi faccio uscire mattia pessina ragazzi 660 e metto ancora l'esperienza di mariano arini al posto di pessina come centrocampista centrale automatico poi anche migliore ragazzi 650 esce entra renzetti oggi renzetti al posto di francesco migliore speriamo bene due sostituzioni fatti anche loro hanno sostituito un centrocampista un mediano però va bene così avanti sessantesimo proseguiamo dai hanno fatto tutte le sostituzioni vi faccio vedere entrato intanto ernesto torregrossa in avanti infatti lo andiamo a chiudere immediatamente come punta centrale è entrato questo mediano bisoli e poi l'ala destra che andiamo a marcare come vedete vi faccio vedere anche le indicazioni sugli avversari qualcuno me l'ha chiesto eccole qua tremolata si sposta sulla sinistra questi due centrocampisti va bene così ecco qua le indicazioni sugli avversari avanti 75esimo ragazzi ultima sostituzione pure per noi c'è molta stanchezza in campo metto sì ragazzi io metto non faccio uscire una cosa ma metto a posto di un baglie 71 per cento 670 è stanco metto xianemers il ragazzino voglio mettere lui no brad ade ci sto pensando scusate no faccio un'altra cosa ragazzi metto bright ade al posto di in baglie poi lo sposto cambio castagnetti 90 centrocampo come mezzala castagnetti si la facciamo giocare come mezzala offensiva no a supporto così vai ragazzi avanti amici miei sembra 93esimo non è successo più nulla quindi meglio così lancio lungo del loro portiere ci sta renzetti teniamo il pallone ragazzi renzetti per antonio piccolo dobbiamo ottenere questo questa vittoria al derby e finisce grande vittoria 2 1 in rimonta grande cremonese spettacolo raggiungiamo a 58 punti ve lo faccio vedere subito il brescia dopo 32 gare bellissimo ne mancano solo 4 ragazzi adesso ci abbiamo una piccola speranza un lumicino di speranza per la promozione diretta ma sinceramente non ci credo ma adesso abbiamo veramente 8 punti di vantaggio sul perugia sesto in classifica playoff sono quasi certi a 4 gare dalla fine ragazzi grande grande cremonese bella tosta siamo stati durissimi forti il derby si gioca in questo modo e l'abbiamo vinto per 2 a 1 col brescia ricordo i gol di barro castrovilli e viveni per loro all'inizio 12 a 11 tiri 4 a 4 insomma pareggio forse qui ci stava però il possesso palla sempre nostro è tutte le partite ragazzi forse solo una non abbiamo avuto il possesso palla a favore nostro bene i passaggi completati 83 per cento 100 per cento contrasti vinti perfetto 62 per cento colpi di testa vinti gol vi ricordo nuovamente i tre che hanno giocato meglio castrovilli con gol due assist di piccolo e gol di barro i tre davanti hanno giocato benissimo bene anche il centrocampo bene tiaco martins in difesa bene ravaglia 6.9 loro carillo con l'assist benissimo quel gol di mattia viviani 7.6 infatti migliore in campo della partita secondo fm comunque adesso rimanete là perché facciamo un resoconto e vi faccio vedere i prossimi appuntamenti come al solito dai e beh ragazzi arriviamo da due vittorie consecutive che vi ho fatto vedere in trasferta col cittadella in casa col brescia contentissimo 6 punti guadagnati sono molto contento della mia cremonese speravo qualcosa in più ma promozione diretta per come giochiamo ragazzi questa squadra secondo me meritava e merita ancora la promozione diretta abbiamo un capocannoniere assoluto nessuno può raggiungerlo 27 reti musabarro segna sempre ragazzi è un fenomeno compratelo se avete fm mi raccomando perché questo per la serie b ma penso pure per la serie a va benissimo perché 27 con le insere b non sono pochi ragazzi solo 36 partite ci sono insomma va comunque vi faccio vedere un attimo classifica avere una 67 con 32 partite 33 partite quindi una in più ne ha il pescara ma ne ha 65 punti è giusto il pescara quella che possiamo andare un pochino a prendere ma si deve fermare non deve più vincere il pescara per poterlo andare a prendere noi dovevamo continuare a vincere sperando che anche palermo e brescia si fermino brescia sta 58 come noi e il palermo a 60 come vedete 50 al perugio ormai con un partito in più come vedete 8 punti via sta dietro meglio così sono contento ragazzi se vi è piaciuto ovviamente like e condivisione facciamo crescere come sempre questo piccolo canale sta crescendo è piano piano è non ci non siamo in tanti però sono contento lo stesso la qualità del canale ma soprattutto la qualità che voi mostrate nei commenti nel supporto nei like è è fondamentale sono veramente entusiasta di questa cosa per cui avanti e poi se volete rimanere incollati per sapere sempre gli ultimi video che escono ma comunque escono giornalmente quotidianamente l'avete visto tranne la domenica così mi riposo anche un pochino escono sempre per cui comunque se volete rimanete attaccati ai social ragazzi pagina facebook instagram e poi per un futuro intanto registratevi twitch per fare delle live ma inizieremo magari del live in estate adesso vedremo quando però un pochino di tempo farò anche delle live qui su youtube e poi su twitch è stato un piacere come sempre forza grigia rossi forza cremonese e mi raccomando ricordatevi andate a vedere anche l'altra carriera bellissima stupenda in germania in terra tedesca con l'openheim alla prossima ragazzi è stato un piacere come sempre alla prossima ciao ciao